Per il decimo anno torna l'iniziativa a Cassano Magnago, palestra cielo aperto. Sì, è il decimo anno consecutivo che abbiamo questa iniziativa. L'adesione da parte degli anziani e non, perché ci sono anche persone che non sono da considerare anziane, è sempre molto alta. Quest'anno oltretutto un buon 50% partecipa per la prima volta. Siamo veramente felici che trovi riscontro questa iniziativa. Andrà avanti fino al 20 settembre, di conseguenza c'è tempo per tutti per iscriversi, sia oggi che durante le lezioni. Palestra cielo aperto è promossa da Stare Bene Insieme a PS, che è un'associazione che si occupa di invecchiamento attivo e qualità della vita. Gli istruttori sono tutte persone laureate in scienze motorie o comunque anche nell'ordinamento passato legati all'ISEF. Diciamo che l'obiettivo nostro è quello di creare momenti di compagnia nel momento estivo, che è il momento anche un po' più sguarnito di attività sociali e di momenti di ritrovo. A chi è rivolto? Allora, le attività sono rivolte a tutti i cittadini cassanesi, con chiaramente un occhio di riguardo a quelle che sono persone verso l'anzianità. Quindi la nostra ottica è quella di sì, veniamo al parco in un contesto bello, sì, facciamo attività, ma soprattutto cerchiamo di stare insieme, cerchiamo di farci compagnia perché così si vive meglio. Poi il fatto di essere all'aperto, di guardare il cielo, è eccezionale. Poi il fatto di essere all'aperto, di guardare il cielo, è eccezionale. Poi il fatto di essere all'aperto, è eccezionale.